Nell'aprile 2020 moriva Monsignor Antonio Livi, un protagonista della ricerca teologica e filosofica. L'articolo che io scrissi per la nuova bussola quotidiana in quell'occasione fu titolato Antonio Livi, gigante del pensiero cattolico, e questo può essere ben detto per la mole dei suoi lavori e per la loro grande qualità. Fu un grande pensatore che pagò le sue posizioni coraggiose in difesa della chiesa e della fede e contro una certa deriva degli ultimi decenni nel campo ecclesiale. Ebbe coraggio perché sappiamo che fare i bastiani contrari non rende mai bene, anzi causa isolamento e solitudine. Monsignor Livi, molti anni fa, lo incontrai con un'altra persona che stava facendo una tesi sul grandissimo pensatore Cornelio Fabbro, di cui Monsignor Livi fu allievo. Lui fu molto cortese, ci risvette al suo studio presso la Università Lateranense e fu prodigo di consigli. Poi, dopo quell'incontro, devo dire che abbiamo perso un po' i contatti e ci siamo ripresi soltanto negli ultimi anni. Infatti, abbiamo scritto insieme un libro, Dogma, Teologia e Pastorale, un libro che io ritengo importante perché Monsignor Livi dice molto della sua battaglia in difesa della fede. Una battaglia che del resto Monsignor Livi ha combattuto in prima persona e con tutte le armi a sua disposizione, anche ispirando una casa editrice come la Leonardo da Vinci, che pubblica molte sue opere e che vi invito ad andare a visitare nel suo sito, che potete trovare su internet con tutto il suo ricco catalogo. Monsignor Livi non si tirava di certo indietro quando c'era da difendere la fede, la sua fede. In una intervista del 2018 diceva La fede della Chiesa è sempre la stessa e quelli che vi sono legati non possono essere rimproverati, non devono essere perseguitati. Li si deve aiutare a compiere il loro dovere e bisogna che si dia loro ragione. Arriverà il tempo in cui il Papa lo farà, quando Dio vorrà. Questo diceva nel 2018. Lui in vita non ha visto questo tempo e forse non lo vedremo neanche noi, perché la radice della crisi è molto profonda. Eppure lui certamente, come ho detto, non si tirava indietro, sapendo di combattere la buona battaglia di cui ci parlava San Paolo. Come detto, non si tirava indietro quando si trattava di mettere i bastoni fra le ruote ai modernisti e progressisti. Parlando per esempio di certe parole che vengono usate per contrabbandare certi significati distorti, quelle che il pensatore brasiliano Plinio Correa d'Olivera chiamava parole talismano. Prendiamo per esempio la parola popolo. In quella intervista che ho citato del 2018, Monsignor Livi dice che popolo è un'immagine puramente retorica. Non si può mai sapere ciò che vuole il popolo, cioè una moltitudine di persone diverse. Anche in politica l'espressione il popolo è puramente retorica e ancor più in teologia. Questo dicevamo il signor Livi. E questa affermazione non sarà piaciuta a chi sul popolo in cammino ha costruito tutta la sua interpretazione della realtà ecclesiale recente. Ricordo che mentre stavamo facendo il libro di cui ho riferito sopra, lui mi disse che si era seriamente ammalato. Io fui molto colpito perché capì che la malattia di cui mi riferiva era molto seria, una malattia che metteva a rischio serio la sua vita e come poi è stato. Continuammo a corrispondere per un certo tempo, anche se percepivo la sua crescente difficoltà. Mi dispiace di non aver potuto essere vicino a lui come sicuramente è stato concesso ad altri. Io so che lui sarà stato in grado di offrire a Dio le sue ultime sofferenze terrene, a beneficio delle persone a lui care e per il bene di tutta la Santa Chiesa che possa ora intercedere per tutti noi.